ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale io sono de simona alessandra ed oggi sono qui a parlarvi della fascia addominale di zero vida che mi avete chiesto mi avete chiesto trovaci qualcosa di funzionale per la pancia per dimagrire la pancia per fare il massaggio alla pancia io ho guardato un po nel mercato quello che offriva e la cosa migliore che mi è saltata agli occhi è stata questa fascia qui è molto comoda vi spiego un po come funziona ha proprio la fascia quindi non dovete reggerla voi ma avete le mani libere è facilissima e molto intuitiva da usare perché ha il primo tasto on si va a premere questo tasto qui e poi ci sono tre tipi di massaggio diverso quindi è molto lieve medio e un pochino più forte intenso questa fascia può essere usata in varie parti del corpo anche sulle cosce sui polpacci sui dolori diciamo sulla schiera anche per i dolori muscolari la potete trovare su amazon al prezzo di 57 euro e 99 e vi aiuta proprio a bruciare il grasso sull'addome però ovviamente sempre associata ad una alimentazione corretta sana e un'adeguata attività fisica perché la fascia ovviamente da sola aiuta ma diciamo non può fare tutto il lavoro da sola allora per quanto riguarda il massaggio va a favorire anche la digestione promuove la motilità gastrointestinale e come vi dicevo prima va ad alleviare i dolori muscolari dovete mettervi ovviamente comodamente vicino una presa di corrente perché va a corrente e infatti non dobbiamo preoccuparci di cambiare le pile perché una cosa fastidiosa fa un basso rumore quindi è facilissima da usare se ne consiglia mezz'ora al giorno ma non dovete prendere quel tempo non dovete guardare orologio perché la fascia una volta che voi azionate il programma che preferite dopo mezz'ora si spegne da sola e io per quanto mi riguarda come sapete quando mi chiedete dite di trovarvi qualche prodotto che vi interessa aspetto prima di fare il video perché voglio per un determinato periodo di tempo provare questi prodotti io da 5 stelle tranquillamente potete procedere all'acquisto perché il prodotto è veramente eccezionale merita ragazzi spero che scusate il ritardo ma non sono riuscita a fare questo video prima vi farò anche il video sull'elettro stimatore che mi avete chiesto spero al più presto mettete un mi piace tanti mi piace tanti nuovi video non dimenticate di iscrivervi al mio canale e un bacio a tutti e buona giornata al prossimo video